andrew una bella foto qua per loro arrivano i colleghi se parate lì è perfetto sono sabini tutto bene sempre bene noi aggiustiamo tutto come ha trovato il Presidente? vi ha avvicinato un po' però? abbiamo ringraziato il Presidente per il sacrificio e per la disponibilità sapendo che tra le regioni ovviamente la gran parte delle regioni chiede in questo momento stabilità per affrontare l'emergenza pandemica un'emergenza economica che si presenta e quindi serve unità delle istituzioni abbiamo di modo potuto rappresentare la voglia di continuare la collaborazione delle regioni con tutte le istituzioni del Paese delle regioni che hanno vissuto in prima linea sulle proprie spalle sia il dramma della pandemia sia le soluzioni alla pandemia perché ricordo che dagli ammaccinali e tracciamenti agli ospedali sono tutti capi alle regioni il Presidente essendo garante dell'unità nazionale e dell'unità tra istituzioni abbiamo voluto portare il nostro ringraziamento e ovviamente ribadire la nostra totale collaborazione per far sì che il Paese possa camminare e anche saper guardare al futuro con ottimismo e con la capacità di reazione come abbiamo dimostrato in questi anni un'impressione sul Presidente in gran forma mi sembra che con un grande senso di responsabilità mi sembra che oggi mi sembra che oggi il Parlamento abbia dimostrato di fare passi davanti hai confermato disponibilità quindi hai confermato disponibilità quindi sono bene poi lì sì 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 aspetta che qui davanti ecco se ci guardate Grazie.